Ciao ragazzi, oggi ero molto più stanco del solito, probabilmente perché ho dormito più o meno due ore e mezza in meno del solito credo che la causa della stanchezza sia questa, spero non sia affaticamento muscolare oggi avevo molta meno lucidità, molto meno equilibrio, soprattutto negli squat ogni 2x3 mi sbilanciavo a destra e a sinistra, dovevo stare attento a ricadere bene dopo aver fatto tutti i salti avevo anche molta meno memoria, semplicemente non riuscivo a ricordare quale fosse l'esercizio successivo ogni 2 secondi dovevo andare a guardare il blocchettino ho sudato anche molto più del solito, addirittura il sudore interferiva con l'allenamento, non so se avete notato a un certo punto mi sono attaccato alla sbarra, mentre saltavo goccioline di sudore negli occhi dovevo scendere, asciugarmi oppure anche il sudore sulle mani, ogni 2 secondi dovevo asciugarmele perché scivolavo dalla sbarra come tempistica ci ho messo più del solito, sempre meno dei primi 2 giorni, ma meno degli ultimi 3 o 4 diciamo che oggi me la sono presa anche un po' con calma, non ho voluto forzare anche perché il mio obiettivo non è compiere questi esercizi nel minore tempo possibile il tempo è solo un dato in più che ho a disposizione ho cercato di prendere un ritmo diverso oggi, sono andato un po' più lento ho finito con quegli esercizi la forza non mancava, quella c'era, riuscivo sempre a completare le 5 trazioni di seguito ci vediamo domani per l'ottavo giorno peace 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 appena fatto 50 trazioni 100 spot 100 piegamenti siamo a 19 minuti molto in ritardo rispetto al solito e Grazie a tutti. Grazie a tutti. 29.48 Grazie a tutti.